Ad ogni inaugurazione corrisponde un'esplosione. Non è una legge fisica ma la legge di apertura dell'Ido Nagia, che in un anno di attività ha già subito tre attentati incendiari. Il 17 luglio 2012, pochi giorni dopo l'inaugurazione, sei bottiglie piene di liquido infiammabile erano state piazzate all'ingresso del locale, ma fortunatamente trattandosi di ordini rudimentali rimasero in esplosi. Un avvertimento che preoccupò soci del Nagia e abitanti della popolosa frazione di Villa Margi, località di Mara, nel territorio di Reitano, dove non era mai successo niente di simile. I carabinieri della compagnia di Mistretta, guidati dal capitano Gio Di Linguanti, avviarono le indagini, ma tutto tornò alla normalità. La stagione si chiuse senza problemi e il Lido rimase aperto fino ai primi di settembre. Nella primavera di quest'anno i soci decisero di continuare l'esperienza e programmarono l'apertura per i primi di giugno, ma qualcosa andò storto. Il 21 maggio un incendio distruggeva l'intera struttura, incenerendo otto frigoriferi e altrettante pedane. Un colpo durissimo per i sette soci che viderano andare in fumo i soldi investiti e il tempo speso. Preoccupati ma determinati, i soci decisero di andare avanti, ripartendo da quello che era rimasto e dall'affetto e collaborazione degli abitanti della frazione di Villa Margi, ma anche dei tanti ragazzi che ogni sera riempivano il Lido. Tutto ricostruito e tutto pronto per il prossimo fine settimana, con una inaugurazione in grande stile. E anche questa volta, per mandare tutto in fumo, era previsto un attentato, ma tra l'inaugurazione e l'incendio di mezzo c'erano i carabinieri di Mistretta. Finito l'incubo per soci, abitanti e amministratori, che Compatti ringraziano i carabinieri. Voglio ringraziare tantissimo l'arma dei carabinieri di Mistretta perché hanno lavorato veramente bene. Questa notte, dalle 4 che siamo qua, abbiamo collaborato anche noi soci, ma giustamente il lavoro più essenziale l'hanno fatto loro. Sono stati veramente bravi. Io penso veramente che questa volta il problema sia risolto. Tranquillizzo anche tutte le altre attività che hanno paura di investire perché abbiamo veramente un'ottima caserma, ottimi collaboratori. Quindi potete stare tranquilli. Grazie. Grazie.